ciao a tutti da poche ore è uscito l'aggiornamento logic pro 10.7.5 l'ho appena scaricato quindi vorrei provarlo per la prima volta in diretta con voi per vedere un po tutte quelle che sono le nuove caratteristiche le nuove le nuove features che hanno che hanno introdotto che sembrava molto interessanti tra cui il free tempo recording il il gain il nest tracks cioè finalmente possiamo raggruppare l'esamen track stack allora prima cosa che posso vedere nei minimum system requirement è che dobbiamo avere quantomeno macos 11.5 o successivi cosa significa che dobbiamo avere installato big sur minimo oppure montere e ventura io ho installato ventura la scorsa settimana e come avete visto probabilmente in un altro video ventura permette di utilizzare logic pro dalla versione 10.4.8 ho provato tutte le altre versioni che avevo installate fino a montere a me funzionava fino con montere e finora la versione 10.2.4 con ventura purtroppo logic funziona dalla versione 10.4.8 quindi per avere logic pro 10.7.5 dobbiamo avere quanto meno big sur adesso avvierò per la primissima volta logic pro 10.7.5 e vediamo cosa capita si sta avviando eccolo qua mi sta facendo la scansione di tutti i miei plugin io ho plugin originali della waves di di isotope di della native instrument quindi in teoria non dovrebbe metterci molto vediamo un attimo io ho come come processore un i9 quindi non è un m1 un m2 la penultima generazione di macbook e come vedete comunque il tutto è abbastanza rapido al momento non vedo errori eccoci qua allora what's new in logic pro smart tempo l'hanno migliorato c'è il nuovo gain tool in interessantissimo nest track stack e individual storm box plugin qua c'è la feature list completa è possibile registrare i midi plugins con editing preciso direttamente e in diretta ci sono nuovi profili di spazio audio c'è la possibilità di fare il playback dei file 30 bit floating point senza convertirli e c'è adesso un interessantissimo sync con ableton link per fare in modo che logic e ableton siano in sync in tempo reale ora versione 10.7.5 faccio un progetto nuovo eccoci qua la prima cosa che posso vedere è che c'è un nuovo bottone eccolo qua il free tempo recording andiamo per ordine allora la prima feature che mi interessa provare sicuramente è il nested tracks praticamente come dovrebbe funzionare dovrebbe funzionare che io ho un po' di file adesso andrò a caso a mettere un po' di regioni immaginiamo che questo è il mio summing track stack crea track stack e mi fai un summing questo lo chiamo ad esempio voci se io ne avessi un secondo voci 2 fino alla versione logic pro 10.7.4 io queste due qua non potevo sommarle adesso vedete che ho un bus 1 è un bus 2 la prima voci val bus 1 in uscita la seconda voci val bus 2 adesso in teoria con logic pro 10.7.5 io posso selezionare queste due track stack crea track stack fammi un summing ed eccolo qua voci 3 quindi un po' quello che sono i gruppi di ableton io adesso posso finalmente questa è una cosa che volevamo da tanto tempo avere dei sottogruppi andiamo a provarlo ancora più avanzato vado a duplicare ancora questo li sommo ancora non mi permette di farlo di più vabbè questo è il primo limito che sto vedendo però andiamo a vedere con un drummer drummer in producer kit demolition quindi anche questo è un track stack se vogliamo vogliamo summing vediamo se mi permette di unirli mi permette di unirli ecco che adesso posso unire due batteristi cosa che prima non era possibile vediamo se mi permette di unire il sum39 con il sum39 track no ok sembra che il limite sia il primo gruppo ma poco male direi che comunque ne abbiamo già di roba qua su cui giocare la seconda funzione interessantissima è sicuramente quella del gain tool andiamo a creare un progetto da new front template andiamo aprirci il nostro amico lì lillilinux scusatemi scusatemi scusato un po il naso tappato in questi questi giorni di novembre sono un po raffreddato e hanno implementato il gain tool cioè fino alla versione di logic 10.7.4 se volevamo aumentare il gain in una regione rispetto a un'altra andavamo qua andiamo nel region e andavamo a aumentare il suo gain adesso hanno messo il gain tool direttamente qua eccolo qua io col gain tool posso andare a aumentare o diminuire il gain e vedete che qua corrisponde esattamente a quello che c'è lì questo funziona ovviamente solo per i file audio se io vado nel in una regione clac stack vedete che non mi funziona se lo vado a fare su una regione invece audio eccolo qua che mi funziona serenamente poi un'altra cosa molto interessante che hanno fatto è la possibilità di registrare i media fx direttamente nelle tracce guardate un po vado a creare sempre un progetto nuovo software instrument questa volta vado a mettermi un empty channel script vado a prendermi il mio pianoforte a me piace sempre partire dal pianoforte per provare le cose nuove e quando lo prendono in media fx ad esempio un arpeggiato per poter abilitare la registrazione del media fx nella traccia devo andare a cliccare su questo menu a tendina ed ecco rig e col midi to track adesso con command k abilito la mia tastierina vedete che è comparso questo simbolino qua vado a registrare ecco che me l'ha fatto prima questa cosa qua non sarebbe stata possibile prima come sarebbe cosa sarebbe successo semplicemente se io non avesse avuto questo abilitato premiamo rec ma non avevo gli effetti midi registrati avevo semplicemente le note che stavo premendo poi si c'era la possibilità ovviamente di esportare il mio suonato all'interno come abbiamo visto in altri video ma non questa funzione che hanno aggiunto è sicuramente molto più interessante poi hanno abilitato come dicevo l'hableton link support per abitarlo tasto destro tasto maestro bar in display vado su sync compare questo bottone qua una volta che compare questo bottone lo tengo premuto ed ecco che c'è abilitato un link se io adesso abilitato sia su mac che su windows connesso via wifi quindi con la stessa connessione io posso sincronizzare il tempo e linkare il bit di ableton e logic così che io posso fare un'unica performance con due software che stanno parlando fra di loro in tempo reale quindi pensate cos'è possibile fare live 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 ad esempio magari sto suonando con logic del piano e sto lanciando i live loops e parallelamente sto facendo la stessa cosa con ableton quindi sono molte le cose che si possono fare la cosa smart tempo e free tempo record abbiamo visto prima che c'è questo nuovo bottone questo nuovo bottone che è simile a quello che avevamo col capture recording in realtà se guardate adesso è il free tempo recording capture recording è un altro tipo di bottone il capture recording che per chi non se lo ricorda l'ho fatto un video serve praticamente a salvare sia a livello di audio che di midi ciò che ho mandato in play ma non ho registrato mi permette per niente di di catturare le mie performance play che mi sono dimenticato di registrare adesso le hanno messo sto bottone qua al lato il free tempo recording invece è un'altra cosa io adesso andrò a registrare senza metronomo delle parti e vediamo un po cosa succede io non ho il mio controller collegato vado direttamente qua con la tastiera schiaccio il free tempo recording stop e quando schiaccio stop ecco che ho quattro possibilità applicare il tempo della regione al progetto quindi il tempo che io ho registrato qua lui me lo farà diventare quello del progetto oppure farmi una media di ciò che ho registrato e applicarlo al progetto oppure forzare il tempo del progetto alla regione quindi me lo porterà a 120 oppure non analizzare nulla e mantenere non analizzare il tempo della regione e non cambiare il tempo del progetto io adesso giusto per giocare voglio applicare il tempo della regione al progetto ecco che circa 124 andiamo a vedere la global eccolo qua e qua mi ha fatto tutte le variazioni che doveva farmi li trovo qua nella global nel tempo oppure qua nella mia lista di tempo simbolini nuovi interessante scusate poi supporta abbiamo detto la libreria a 32 bit quindi sicuramente molto interessante un'altra cosa molto interessante è la possibilità e questa è questa è di poter includere le informazioni di tempo nel bounce cosa significa se io faccio mio classico command b adesso posso includere informazioni di tempo nel progetto quindi se io ho delle variazioni di bpm o delle variazioni importanti nel tempo del progetto perché magari sto facendo post produzione per video ecco che qua me le include all'interno del file potete esportare 32 bit floating point come abbiamo detto e possiamo lavorare direttamente a librerie a 32 bit altre cose interessanti hanno messo nella claccia stereo out del dei preset di mastering per l'hip hop knock a b e c ad esempio che spingono parecchio a livello di hip hop il sound ovviamente ci sono un sacco di sample da poter scaricare non l'ho ancora fatto perché l'ho appena aperto in diretta vediamo cosa c'è di nuovo andando su logic pro sound library download anzi open sound library manager come vedete c'è un sacco di cose nuove da poter installare vediamo un po' diciamo che ci sono 2 giga fino a qua almeno 2 giga di roba nuova se andiamo a vedere negli apple loop anche qua sicuramente ci sono cose da scaricare anche perché la apple ci regala sempre nuovi sample e nuovi preset andiamo a vedere anche se ci sono dei nuovi preset che sicuramente eccoli qua sicuramente dei nuovi lan kit come vedete delle nuove chitarre non ci sono più le preferenze se io vado su logic pro adesso ci sono i setting quindi ci sono i file project setting come sempre e logic pro setting questo potrebbe creare confusione perché ad esempio se io vado su logic pro cioè un sacco di video tutorial ormai anche i miei parlano di logic pro preferences adesso non ci sono più le preferenze di logic ci sono i logic pro setting e i file project setting quindi se io ad esempio devo andare a cambiare l'interfaccia vado sicuramente su logic pro setting audio ed eccola qua non mi sembra che ci siano grossissime differenze rispetto a prima comunque sono tutte cose che andremo ad esplorare in successivi video tutorial e poi ci sono sempre i miei project setting andiamo qua a vedere se hanno aggiunto cose nuove nel display perché qua ci sono sempre cose nuove sui colori mi sembra che sia tutto esattamente come prima un'altra cosa nuova che hanno aggiunto che secondo me è interessante dalla control bar abbiamo il customize control bar in display abbiamo la possibilità di aggiungere il track zoom scusate qua nella toolbar ho sbagliato il track zoom quindi se io seleziono questo track zoom ecco adesso io ho la possibilità di zoomare anche più tracce con il track zoom quindi ho la possibilità di selezionare più tracce e di zoomarle con il track zoom perlomeno mi sembrava invece forse non lo sta facendo come dovrebbe ok scusate ho detto una stupidaggine ok questa è la prima overview spero di potervi ampliare queste vedute con nuovi video tutorial seguitemi e auguro a tutti un buon inizio con logic pro 10.7.5 buona giornata ciao ciao